se una futura sposa vuoi evitare che la tua festa venga ricordata come una noia mortale con ospiti annoiati e disinteressati siamo live in questa diretta scoprirai tutto quello che i musicisti per matrimoni lì fuori vogliono tenerti nascosto c'è un ospite con me una location manager ma se mi vedi per la prima volta innanzitutto mi presento ciao io sono francesco barattucci e sono il fondatore di matrimonio travolgente il primo e unico servizio musicale in italia nel settore del matrimonio specializzato nel far scatenare tutti a fare festa nonché autore dell'omonimo libro matrimonio travolgente scopri come avere una festa spontanea il primo libro sulla festa di matrimonio che ti aiuta in modo concreto pratico e veloce a salvare la festa del tuo matrimonio da una noia mortale e ti indica quali sono i sette step per avere una festa che fa scatenare tutti in modo spontaneo e che lascia bocca aperta a tutti i tuoi ospiti siamo live oggi come promesso perché come sempre io voglio esservi d'aiuto in questo periodo molto difficile per tutti quanti eh ho deciso di aiutare in modo pratico e concreto tutte quelle spose che adesso hanno un po' di tempo seppur forzato per capire un po' eh come orientarsi nella scelta di questo servizio così complesso così difficile ma soprattutto visto che tutti i giorni abbiamo eh le solite informazioni eh negative di portarvi un po' di positività un po' di energia perché ragazzi sarà ancora più bello quando tutto questo finirà e credetemi finirà saltare festeggiare e avere attorno a voi tutte tutte le persone che eh che ti amate eh oggi io voglio fare prima ecco un una piccola introduzione perché mh permettimi di dire che so eh esattamente come ti senti perché eh ti approcci per la prima volta a questo mondo e non sai minimamente eh da dove cominciare sei mh spaisata sei confusa hai delle aspettative altissime la paura di fare la scelta sbagliata e di ritrovarti un matrimonio noioso morto e banale come tutti gli altri eh so 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 ragazze che vi sentite mh proprio disorientate eh questo lo vedo nelle tantissime consulenze che facciamo eh e quindi non sai minimamente quale sono quali sono le cose che devi eh valutare per poter evitare una scelta sbagliata e ma non è colpa tua è assolutamente normale che tu ti senti così perché dietro una richiesta di preventivo dietro una semplice richiesta di informazioni ci sono i soliti musicisti che sono lì pronti subito con il loro preventivo killer preparato una volta sola premono invio e lo mandano ad altri 80.000 spose quindi tu per loro sei solo un numero tu per loro sei solo un numero di serie ovviamente ti arriva questo preventivo dove ci sono solo un elenco di caratteristiche tecniche e di cose incluse nel pacchetto che io definisco pacco e tu non sai cosa valutare in quel preventivo non sai non sei una tecnica non sei una musicista ma soprattutto tu non capisci il valore eh di quello che ti stanno dando come può aiutarti e se può aiutarti in modo pratico e concreto ad ottenere quello che tu desideri vivere attraverso il servizio musicale e soprattutto perché dovresti scegliere quella soluzione piuttosto che un'altra alla base però c'è un altro problema che quasi tutti i musicisti cosa fanno neanche ti chiedono tu eh cosa ti aspetti neanche ti ascoltano quindi tu sei un numero al quale appioppare un preventivo standardizzato ma sappiamo bene che ognuno di noi è diverso e quindi quello che magari cerca Antonia non è quello che cerca Francesca ogni persona è diversa ok e quindi che succede che ti arrivano questi preventivi che tu non sai minimamente come valutare e quindi capisco il senso di ecco disorientamento e la paura di fare eh una scelta eh sbagliata eh spesso non c'è neanche una consulenza per capire ascoltarti eh ragazzi io so che lì fuori nessuno nessuno in questi anni ha mai avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di guidarti di prenderti per mano di toglierti la nebbia ecco si è mai capitato di guidare eh di notte per la strada avere la nebbia e non sapere eh se la strada che tu stavi percorrendo era quella giusta ecco questa è la sensazione che io vedo ogni volta che vado in consulenza con le spose perché giustamente ti approcci per la prima volta a questo mondo e non sai minimamente da dove partire cosa valutare e quindi che succede che eh non sai eh non hai dei punti di riferimento io ho voluto per la prima volta assumersi assumermi questa responsabilità di guida diventare per voi un punto di riferimento e aiutarvi aiutarvi io dico sempre che se sono simpatico ben ben venga ma il mio scopo è quello di esserti utile di portarti dentro questo mondo per farti capire come stanno le cose cosa dovresti aspettarti quali sono i rischi e i pericoli di cui lì fuori nessuno parla ma che devi sapere prima perché ragazze se il giorno è il tuo matrimonio il problema te lo trovi di fronte non puoi fare nulla per poterlo risolvere e il rischio è che tu investi migliaia di euro mediamente in Italia 36 mila euro per una festa di matrimonio energie aspettative stress difficoltà e per poi ritrovarti in mano non quello che hai sempre desiderato ma una festa morta una festa dove hai ospiti che alle 4 del pomeriggio dormono sui dimanetti all'esterno dove hai ospiti che si sentono dei semplici soprammobili che fanno la classica mangiata ma che poi non portano a casa nulla cioè dimmi quante volte si è capitato di partecipare a un matrimonio e di guardare continuamente l'orologio perché attendevi il taglio della torta lo sognavi cioè il taglio della torta era come un momento ambizioso perché tu già dall'antipasto già dormivi ok non voglio dilungarmi perché perché oggi voglio affrontare con una location manager tutti i vari rischi e le varie problematiche che ci sono dietro questa scelta e di cui parlo ormai da anni e di cui invece lì fuori nessuno parla tutti i musicisti mandano preventivi standardizzati perché vogliono subito appioppare quindi tu entri invece di aiutarti vieni praticamente sommersa da informazioni commerciali scegli me sono bravo sono professionale il servizio di qualità professionalità ma poi poca concretezza e tu non sai una mazza di di che tipo di servizio verrà svolto come eccetera eccetera ma questa volta voglio che sia una location manager a testimoniarlo cioè voglio eh organizzato questa diretta eh per aiutarti a farti capire il punto di vista di una location manager che all'attivo circa dieci anni di matrimonio perché spesso erroneamente il servizio musicale viene considerato un cosiddetto servizio accessorio ma 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 non lo è perché dietro questo tipo di servizio se fai la scelta sbagliata i trentasei mila euro vanno nel secchio e va nel secchio tutto quello che tu hai organizzato e fatto fino a quel momento ok quindi ragazzi ciao ciao mattina ciao Pierluigi ecco abbiamo ragazzi stasera abbiamo ascoltate bene ciao ciao Martina ciao allora ragazzi io voglio eh mandare in live una grande location manager io sono sempre carico ragazzi amo amo aiutare gli sposi amo perché vedo questo senso di disorientamento sempre nei vostri occhi io voglio aiutarvi voglio aiutarvi a salvarvi dalle grinfie di chi vi promette sogni di chi vi vende fuffa di chi vi promette il mondo e poi distrugge la festa del giorno più bello della vostra vita quindi io direi che eh accogliamo nel live una grande location manager però voglio che sia lei a presentarsi ad ciao ragazzi ciao Francesco allora ci siamo live vai allora ragazzi abbiamo abbiamo con noi questa sera eh Claudia sordi Claudia eh location manager di Open Space Wedding situata Vigiu in provincia di Varese ma vorrei che sia lei a presentarsi vai Claudia allora ciao a tutti ciao ragazzi ciao Francesco come detto prima grazie di avermi ospitato nel tuoi live perché in questo momento come hai detto tu facendo po' l'anteprima di questo live è un momento eh molto particolare un momento straordinario e quindi eh le coppie eh hanno proprio bisogno più ancora di prima di un aiuto concreto da parte di tutto quello che sono i fornitori del mondo del wedding e oggi hai ospitato me immagino che poi man mano ospiterai anche altri fornitori di eh di questo settore del matrimonio allora io sono come aveva anticipato Francesco Claudia location manager di Open Space che è la prima location moderna di Vigiu di Varese oltretutto costruita apposta per il mondo del eh matrimonio quindi eh noi ci differenziamo sostanzialmente da quello che sono tutte le location tipo le ville antiche i castelli o anche delle location eh ristrutturate con poi tenso strutture fuori proprio perché siamo una location che abbiamo costruito proprio specificatamente per il mondo del matrimonio questo perché perché il matrimonio soprattutto l'evento matrimonio è un evento prima di tutto è uno degli eventi più importanti nella vita di qualsiasi coppia ed è per questo che eh comunque deve avere eh sia degli spazi idone dove svolgere anche il matrimonio cosa che magari in altre location è un pochino eh più problematico proprio perché ci sono eh spazi e ambienti non realizzati proprio per questa giornata così speciale. Ok. Mi sono presentata direi. Alla grande alla grande. E allora Claudia io voglio che per chi ci vede adesso live chi ci vedrà indifferita. Ok. Sicuramente poi eh ci saranno. Eh ciao Gabriella eh c'è anche Gabriella live salutiamo tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Anna tutti quanti. Eh nulla io voglio che tu oggi sia davvero d'aiuto a ai futuri sposi eh perché il servizio musicale è uno dei servizi in assoluto un po' più distrattati ecco a cui magari erroneamente inizialmente non non si dà importanza. Ok. Dal tuo punto di vista di location manager che è attivo circa dieci anni di matrimonio eh quanto è importante e prioritario secondo te ai fini della riuscita di di una festa e di come verrà ricordata il servizio musicale. Allora guarda Francesco per la mia esperienza in realtà eh il servizio musicale durante una festa di matrimonio è uno dei tre servizi più importanti che ci devono essere eh in una festa proprio perché la festa abbia successo e eh sia come proprio è stata desiderata dai ragazzi quindi ehm in primis ok location quello che è catering banchetto ma gli strattati musicisti in realtà dovrebbero essere considerati molto di più proprio perché poi in realtà durante una festa di matrimonio eh quello che vogliono gli invitati e gli ospiti è sicuramente il divertimento perché se no capita come hai ben detto tu che poi gli ospiti in realtà eh non vedano l'ora quasi a ogni matrimonio di andare via e di scappare perché perché in realtà non si divertono e direi che in realtà i ragazzi dovrebbero fare molta attenzione a quello che è il servizio musicale perché poi si corre veramente il rischio mh di non avere un matrimonio di successo perché poi le problematiche scusami legate proprio al servizio musicale sono molti e molto diciamo variegata la fauna di musicisti che popola il mondo del matrimonio e quindi direi che in dieci anni ne ho viste un po' di tutti i colori eh ci sono delle persone serie perché mh come eh come in tutti i campi ci sono le persone serie che sono specializzate in questo lavoro però purtroppo spesso e volentieri i ragazzi si affidano a mh musicisti che magari lo fanno che seppur bravi però magari lo fanno come o secondo lavoro e quindi non possono avere un'organizzazione un'attenzione al matrimonio come invece può avere un professionista che fa questo di lavoro dal lunedì alla domenica o addirittura purtroppo negli ultimi anni spesso e volentieri ci si affida come dico io a mio cugino o a mio papà o a mio fratello e lì insomma ne vedo un pochino di tutti i colori ok diciamo nel corso di questi anni quali sono le problematiche maggiore più frequenti di cui spesso gli sposi non sono consapevoli giustamente perché si approcciano per la prima volta e se nessuno glielo dice nessuno gli aiuta rischiano di scoprirlo solo il giorno del matrimonio quando ormai non puoi tornare indietro e al massimo puoi ammazzare lì il musicista ok ok quali sono le problematiche più grandi che hanno causato dei problemi anche a voi alla location allora ti posso fare delle case history numerose allora la case history più classica è che magari il musicista ti arriva cinque minuti prima dell'arrivo degli ospiti o in alcuni casi mi è capitato anche con già gli sposi arrivati già in location perché magari il giorno prima ha avuto un matrimonio finito alle cinque del mattino molto probabilmente porello non è neanche tornato a casa ha dormito in macchina e quindi ti arriva qua sostanzialmente sconvolto e quindi devo dire che non è molto performante in altre occasioni magari in un caso anche qui uno dei musicisti aveva un musicista scusami aveva un matrimonio a londra aereo arrivato in ritardo e lui se ne è arrivato mezz'ora dopo altre problematiche relative sempre un po' a una poca organizzazione dei ragazzi che fanno la musica è quella di non avere più postazioni di musica noi per esempio ti spiego noi siamo una location che ha quattro cinque scenografie dove ambientare il matrimonio quindi è strettamente necessario come minimo avere due postazioni musicali proprio perché l'evento si svolge in più scenografie fuori nel parco poi abbiamo un salone open space al primo piano e poi abbiamo un altro salone dove solitamente si svolge la parte finale dell'evento proprio il party finale quindi cosa succede se i ragazzi erroneamente perché anche qui come giustamente dici tu non lo possono sapere se il musicista non glielo dice gli viene proposta una sola postazione cosa succede che il poveretto perché poi alla fine dei conti spesso e volentieri poi si tratta di una di un solo ragazzo che fa tutto ti ritrovi che prima prima ancora che finisca il buffet deve mettersi a smontare l'attrezzatura deve correre in sala a rimontare un'attrezzatura dove si svolge il banchetto principale e quindi mentre ci sono già gli ospiti in sala al posto di mettere la musica ad ingresso degli sposi magari te lo ritrovi ancora lì che sta montando l'attrezzatura poi spesso e volentieri prima ancora che finisca il banchetto centrale visto che bisogna spostarsi in un altro salone per fare il party finale stoppa la musica magari mezz'ora prima della fine del banchetto principale e mentre gli invitati sono lì che stanno finendo appunto il banchetto lui te lo ritrovi che sta smontando l'attrezzatura e deve correre nell'altro salone a rimontare tutto questo capita direi la maggior parte delle volte quando i ragazzi si affidano al cugino al fratello allo zio al papà questa è un po' una cosa che capita in queste occasioni per una coppia di sposi questo problema cosa causa cioè cosa causa avere solo un impianto e spostare rimontare oltre alla brutta figura davanti agli ospiti beh sicuramente come detto tu una brutta figura davanti agli ospiti e sicuramente perdersi anche dei momenti importanti del matrimonio come ti ho detto prima è capitato più di una volta che l'ingresso in sala poi degli sposi poi una delle parti più più belle poi di un matrimonio no finito il banchetto c'è proprio l'ingresso in sala i ragazzi si ritrovino senza magari la musica o il brano che avevano scelto perché poi una delle cose più importanti magari ci hanno messo mesi per mettersi d'accordo fra di loro su quale era il brano e l'ingresso e poi in realtà si ritrovano senza nessun brano d'ingresso o un'altra cosa che ti posso dire è capitata noi abbiamo un parco che è molto ampio e quindi la postazione musicale non è proprio vicino a dove poi i ragazzi arrivano quindi spesso e volentieri mi sono ritrovata io che in realtà non è il mio mestè ma comunque lo faccio perché io ci tengo che poi l'evento a prescindere che loro abbiano scelto musicista non idoneo mi devo mettere io non so se vedi dietro di me una balconata per avvisarti guarda che stanno arrivando metti il brano cioè questo accade perché il musicista è uno solo e non c'è una coordinazione se invece ci fosse una struttura più adeguata a livello di organizzazione della musica logico quando ci sono dei musicisti che come ti ho detto all'inizio questo è il loro lavoro questo non accade mai ecco perciò ci sono proprio delle problematiche legate sia alla tempistica di ingresso degli sposi poi molte volte anche alla tempistica del servizio perché ricordiamoci che poi il banchetto principale ha delle regole cioè la cucina non è che si può stoppare o aspettare il musicista perché magari non essendo un professionista non ha in mente quali possano essere i tempi dello sviluppo del banchetto ma soprattutto la cucina non si può fermare quindi io solitamente faccio sempre un briefing iniziale anche con tutti i fornitori che fanno parte che stanno in location assieme ai ragazzi che sono poi il fotografo il musicista e la cucina però scusami quanto è importante e cosa causa se non c'è un'organizzazione dall'inizio tra location fotografo e musicista anche dillo tu cosa che problema causa se manca questa coordinazione beh lo dico la mia maniera un grosso casino nel senso che dobbiamo nasconderci si incasina un po tutta la vicenda adesso parla dei fotografi poi magari parlerai intervisterai un fotografo però questo magari bloccare la sala perché il musicista anche se gli è stato detto guarda che a questa determinata ora deve essere servito risotto perché poi risotto uno dei must del matrimonio quindi quello quando hai cominciato a farlo non è che puoi stare lì aspettare e quindi magari viene dilatato una una parte di divertimento perché capisco che ci sono delle fasi dove i ragazzi si divertono e quindi magari il fatto di dire stoppiamoci non è bello però insomma questo va a bloccare la cucina e il servizio quindi anche qui molte volte io mi ritrovo a fare come il mio solito purtroppo la la cattiva ma non è cattiveria e dover andare a interrompere la musica perché poi il servizio viene bloccato molte volte mi elogio che tutti mi guardano malissimo ma in realtà io sto facendo un servizio proprio per sopperire a una mancanza che in realtà dovrebbe essere quella di un musicista attento insomma la dinamica di un matrimonio è fatta di tempistiche quindi è vero che poi una festa dove tutti ci si deve divertire alcune volte alcune tempistiche si dilatano perché siamo molto flessibili sotto questo profilo però la cucina ha la sua importanza e quindi ci sono alcune parti principali che non possono essere bloccate quindi poi insomma si ritarda la cucina si ritarda tutto quanto e alcune volte per esempio ho avuto in sala magari persone un pochino più anziane rispetto invece ai ragazzi giovani che si lamentavano del fatto che poi tra un primo e un altro primo si si è dovuto aspettare mezz'ora o tre quarti d'ora questo poi diventa un po' complicato doverlo andare a spiegare perciò ecco molte volte sono problemi di tempistica certo anche perché magari può anche succedere che se magari un musicista fa partire il trenino o il momento clou nell'uscita della portata si genera un caos magari poi l'ospite mangia feddo non mangia bene certo poi è sempre sempre brutto no dover andare a intervenire perché lo capisco insomma sta divertendo però ecco questo dovrebbe invece essere cura proprio del musicista rispettare queste tempistiche proprio poi nel rispetto di tutti gli altri fornitori che lavorano per appunto realizzare il matrimonio ecco è sempre brutto no perché poi sembra sempre che sia uno che è cattivo nei confronti dell'altro invece non è vero e questa cosa purtroppo spesso e volenti ricapita però insomma io tendo sempre a cercare di far rispettare una certa continuità nella parte soprattutto centrale dell'evento del banchetto certo io dico sempre è fondamentale che ci sia ecco una sorta di regia e quindi un team collaborativo tra i tre attori principali quantomeno fotografo location e musica in modo tale che tutti insieme si rema verso l'obiettivo finale certo ok e quindi è fondamentale credo che ci sia la collaborazione e da parti di tutte e tre ma che prima si prepara il tutto poi ti volevo chiedere Claudia quanto è importante in un matrimonio non solo gestire i tempi ma anche annunciare tutti i vari momenti esempio primo ballo taglio torta ingresso ballo genitori si è mai capitato qualche volta che magari gli sposi primo ballo è un momento che desiderano da tutta una vita e magari gli ospiti non se ne sono accorti io a voglia mi è capitato anche un taglio torta dove erano solo i due poveretti a farsi il taglio torta perché in quel caso purtroppo era il papà che gestiva tutto e poi lì diventa ancora più complicato dover andare no allora è importantissimo e ti ribadisco come prima ti ho detto alcune volte il musicista magari è spostato non è bene non riesce a vedere ben la coppia e quindi per esempio l'ingresso in sala alcune volte mi è capitato di doverlo annunciare io oppure andare a dire il musicista guarda che stanno entrando che fai perciò è importantissimo è una cosa che devo dire fanno molto pochi musicisti non l'ho mai capito granché perciò molte volte anche in questo caso devo intervenire io te l'ho detto a livello di ingresso in sala spesso è capitato alcune volte al taglio torta anche addirittura un matrimonio dell'anno scorso però liberamente mi sono mi sono un po entristita io perché erano lì i poverini da soli il papà che stava facendo il suo show e i poveretti erano lì che stavano per tagliare la torta alla fine sono dovuta andare dal papà e ho detto uè fio mio della serie guarda che tua figlia è lì che sta cercando di tagliare la torta vediamo di finire il tuo teatrino perché magari è più importante che ci siano che ci sia una una modega anche durante il taglio torta ecco queste difficoltà soprattutto avvengono come ti ho spiegato prima quando ci sono parenti amici o cugini che creano l'evento in altri casi poi ti volevo chiedere ti è mai capitato di magari vedere anche persone sprovviste di autorizzazioni? allora in realtà è una cosa molto importante sono autorizzazioni che poi ho il discorso della CIA e allora io ti dico quello che capita nella nostra location poi ti racconto quello che capita può capitare nelle altre o nella nostra location se non hai la CIA e non entri noi la chiediamo sempre la facciamo fare agli sposi perché se la chiedi ai musicisti quelli che non sanno neanche che cosa sia non la fanno ok quindi in ogni caso presso la nostra struttura prima dell'evento noi ci facciamo dare il bordero della della CIA in altre location so che alcune volte è capitato che non avendo il musicista fatto la CIA purtroppo ci sono stati dei controlli e che cosa capita se arriva un controllo della CIA e trova il musicista sprovvisto di questa documentazione in realtà il matrimonio viene bloccato e questo lo so perché anche se io fisicamente sono nella mia location però altri fornitori con cui collaborano poi sono soprattutto i catering è logico che molte volte noi parliamo di queste cose quindi non ti dico fin dall'inizio forse noi siamo molto fiscali ma secondo me è corretto il modo di essere molto fiscali su queste normative ha fatto sì che presso la nostra struttura una cosa del genere non sia mai capitato è sempre una cosa che va spiegata anche qui ai ragazzi perché se no ai ragazzi la prima cosa che ti dicono è ma perché devo pagare la CIA e lo so che non sono due lire io scusami sono rimasta le lire e speriamo magari di ritornarci ma questo un altro paio di maniche perciò glielo dobbiamo spiegare però ecco io spiego sempre l'importanza di che cosa può capitare perciò secondo me spendere quei 200-300 euro che sono poi il costo della CIAE val la pena spenderli piuttosto che magari mandare all'area un matrimonio dove ne hai spesi 40-50 mila euro ecco non ha particolarmente senso in Italia il paese delle carte io sono dell'idea che è sempre meglio avere una carta che non averla. Certo allora su questo poi volevo aggiungere fondamentale assolutamente quello che hai detto la CIAE altra cosa fondamentale questa è una cosa che davvero non vi dirà nessuno di cui nessuno parla è il certificato di agibilità ragazzi il certificato di agibilità spose ve lo faccio molto easy è quel certificato che permette al lavoratore al lavoratore dello spettacolo di lavorare regolarmente presso quella tale struttura ok che significa che se viene l'ispettore e trova il ragazzo che lo fa per ottavo lavoro ok o trova l'obbis o il cugino che è bravo e costa poco o l'amico eccetera eccetera praticamente tu magari sei nel momento clou della festa ti stai strappando i capelli vedi tua nonna che salta all'improvviso arriva all'ispettore e blocca la festa e quindi il rischio è che poi quel matrimonio viene ricordato come un matrimonio bloccato nel momento clou e i tuoi 36 mila euro vanno nel secchio e tutto quello che tu hai fatto quindi le energie le aspettative vanno nel secchio ok quindi ricordate sempre il certificato di agibilità e CIAE che devono essere assolutamente fatti anzi la location deve verificare il musicista che ce l'abbia prima ancora che entri in location questo certificato quindi assolutamente fondamentale queste due cose saluto intanto Riccardo saluto Aldo e come diceva giustamente Riccardo la gestione dei tempi è un gioco di squadra se trovi il musicista il fotografo prima donna è un delirio anche questo è vero i fotografi poi il foto il prossimo live il prossimo live Riccardo Riccardo preparati Riccardo preparati perché facciamo un live anche dal punto di vista del fotografo che sarà anche i fotografi ne combinano di tutti i colori sono anche più prime donne dei musicisti tante volte allora e poi Claudia ti volevo chiedere diciamo abbiamo un po' analizzato nel senso come avete visto la cosa importante è poi quello di verificare i musicisti non tanto quanto costano ma che garanzie ti danno in termini di affidabilità sicurezza e risultato ripeto non tanto quanto costano ma che garanzie ti danno in termini di affidabilità risultato e sicurezza perché come ha detto Claudia quanto ti costa farti bloccare il matrimonio rispondi a questa domanda altra cosa importante Claudia quando in un matrimonio c'è la location che è bella c'è il segnaposto che è fantastico è tutto al posto giusto ma in sala non c'è festa non c'è coinvolgimento descrivimelo com'è il matrimonio tu che l'hai vissuto tante volte una noia mortale nel senso che comunque sia non ci si diverte allora noi possiamo avere o anche gli sposi possono scegliere come hai detto tu il top non plus ultra ma se poi il matrimonio non decolla c'è poco da fare cioè non è né la location nei fiori né quello che è il menù che dà la spinta al matrimonio quello che dà la spinta al matrimonio è comunque l'animazione e la festa io ti devo dire che anch'io quando perché io comunque seguo tutti i matrimoni da quando arrivano gli sposi a come a quando vanno via i matrimoni dove mi sono divertita di più sono logicamente quelli dove c'è animazione che poi sia poi la scelta dell'animazione della musica questo elogio che è sempre a discrezione degli sposi non tutte le coppie come hai detto tu all'inizio sono uguali quindi ci può essere la coppia che magari desidera un matrimonio molto più light quindi con musica soffusa o con musica da camera insomma non viste tutti i colori però quando invece i ragazzi avevano deciso o pensavano di ritrovarsi una festa con un'animazione quindi con un musicista in grado di animarli poi il fatto di ritrovarsi invece magari due seppur bradi musicisti ma che poi non hanno né la tempistica né lo spirito per animare la festa poi la festa comunque non decolla quindi come come spesso dici anche tu ma che è veramente corretto di che cosa si ricorderanno poi tu ospiti delle due portate che hanno servito a tavola che seppur buone perché poi tutti i catering fanno da mangiare molto bene e molte volte anche io quando alcune volte faccio delle consulenze con coppie di sposi spesso chiedo ai matrimoni che avete partecipato cos'è una delle cose che vi ricordate di più ma ci ricordiamo poco c'era poca animazione l'unica cosa che desideravamo era scappare da quel matrimonio quindi molte volte le coppie hanno si approcciano anche al matrimonio con proprio la paura che sia una una festa noiosa e che quindi non vogliono replicare la festa ai matrimoni che hanno già vissuto come ospiti ecco devo dire la servizio musicale è veramente una una componente molto importante poi se c'è bella musica e si balla mi diverto anch'io ancora di più ecco che ciò non guasta brava esatto magari anche i camerieri servono no ma certo perché poi è tutto quel in realtà se anche noi che siamo con con voi durante l'evento ci divertiamo e tutto quanto secondo me viene tutto più bello ecco insomma molte volte io mi sono trovata dei matrimoni che purtroppo però io tante volte non posso imporre musicisti con cui collaboro da tanti anni che io sempre segnalo perché so come lavorano alcune volte mi ve la depressione anche a me cioè voglio dire e ciò non è bello insomma ma infatti claudia io io volevo sottolineare questo aspetto perché come come ho avuto modo di scrivere anche sul mio libro cioè adesso siamo in una nuova era che è quella dell'esperienza allora ragazzi pensateci un attimo dei matrimoni in cui avete partecipato da ospiti voi ricordate in modo preeminente l'atmosfera che avete vissuto e come si sei sentita quel giorno se io ti dovessi chiedere ma il secondo secondo cos'era o il colore del segnaposto cos'era ma se io invece ti chiedo quel giorno come si sei sentita se ti sei annoiata le quattro di pomeriggio eri sul divanetto del ristorante dirai passatemi il termine mi sono fatto due palle grande come una casa ok quindi è l'unica cosa che si imprime in modo negativo nella nostra memoria io volevo sottolineare seppur come dice martina magari magari un matrimonio matrimonio sontuoso ricco di dettagli ma totalmente piatto è come se tu stai in una location fantastica ma c'hai un'atmosfera morta non c'è gioia non c'è allegria intorno invece di vedere festa vedi solo musi lunghi che non fanno altro che attendere il taglio torta io ti volevo chiedere claudia ma sempre che poi venga annunciato il taglio torta ecco diciamo anche questo quante volte claudia gli ospiti non se ne sono accorti che magari il taglio torta veniva fatto esternamente ed erano ancora lì arrivata la torta e hanno detto ma dove è stato fatto il taglio torta dillo ma è capitato tante volte proprio come ti spiegavo all'inizio francesco noi avendo diverse scenografie abbiamo il taglio torta in esterno a bordo fontana e tutti gli ambienti sono collegati fra di loro quindi non è che la sala è distante otto chilometri come magari accade in altri in altri location però logicamente soprattutto magari anche gli ospiti più di una certa età non dico i giovani che poi sono più dinamici e quindi magari seguono un po più di più diciamo l'evento però molte volte capita che il musicista non annunci il taglio torta e magari io mi ritrovo in sala ancora più di magari 30 40 persone che sono magari i parenti o le persone più anziane i nonni che non sono stati avvisati e quindi si perdono una poi delle fasi finali più belle che poi finale ma che poi dall'inizio in realtà parte finale quindi anche qui molte volte mi sono vista costretta a entrare in sala io a dover appunto invitare gli ospiti a dire signori guardate che si sta effettuando il taglio torta e musicista bellamente non l'ha praticamente neanche annunciato quindi alcune volte capita devo dire ok poi ti volevo chiedere claudia prima hai fatto un passaggio molto importante dove tu hai detto quando c'è la noia quando c'è la mancanza di coinvolgimento non è perché i musicisti non sono bravi allora ragazzi chiariamo una cosa io ho dei colleghi bravissimi a fare quello che fanno ma per una sposa che cerca una festa un musicista che è bravissimo bravissimo e specializzato nella musica live di accompagnamento non è che non è bravo è bravo a fare quello che sa fare quindi è focalizzato su un'altra cosa su altri servizi ok ma in questo caso tu cerchi una festa quindi il senso è cerchi una giornata con dei bravissimi musicisti dove ascolti solo la musica live ma dove non si diverte nessuno o una festa dove comunque ci sia della buona musica e si divertano tutti quindi devi scegliere la soluzione giusta per la tua esigenza specifica come l'esempio che ho fatto nel libro è come dire io ho un problema elettrico alla macchina e dico ah ok ma il mio meccanico è bravo la porto da lui sì ok il mio meccanico è bravo ma per quel problema specifico ho bisogno dell'elettrauto che me lo risolve il problema perché se no il problema non viene risolto quindi i musicisti sono bravissimi a fare quello che fanno semplicemente se cerchi festa non sono la soluzione giusta per quell'esigenza specifica se poi ci sono altre spose che cercano un matrimonio con dell'ottimo accompagnamento live e soft sono la scelta giusta che ne pensi claudia sì come ti dicevo prima ogni coppia ma è giusto così a come giustamente dicevi tu le sue esigenze perciò come ti dicevo prima molte volte è capitato di avere musica live come stai dicendo tu già il fatto di avere musica live perché poi abbiamo avuto anche in location band proprio che suonavano dal vivo perché poi qui non abbiamo particolari limiti di orario visto che possiamo anche andare fino alle 3 del mattino cosa che in altre strutture non avviene però quasi è la difficoltà di una di un concerto live che poi tra l'altro sono molto belli il problema è che lo puoi fare solo in una determinato spazio della location perché tu capisci bene che venire a montare magari una band di 4 o 5 musicisti devono venire sin dal mattino a montare la strumentazione poi quella strumentazione che tu hai posizionato in un determinato spazio non la puoi mica muovere quindi può capitare che magari hai sì una parte finale live molto bella però la prima parte del buffet aperitivo che poi un'ora e mezza due ore dura la parte del panchetto centrale poi molte volte è tra virgolette morta quindi quando capita questa cosa di sicuro i ragazzi hanno pensato e volevano sicuramente una festa dove ballare perché se poi alla fine mi prendi una band dal vivo vuol dire che ti stai e vuoi scatenare però poi non hanno pensato alle prime due parti e questo è impossibile farlo con una band dal vivo poi come hai detto tu poi ci sono invece anche altre coppie che invece desiderano un matrimonio più soft però lì siamo totalmente in un altro tipo di evento che giustamente va bene anche quello ecco non non disquisisco su quello ma piacciono tutti gli eventi non mi piacciono gli eventi dove invece il servizio musicale è fatto in modo raffazzonato ecco quello non va proprio bene ok e come dicevi tu poi volevo con no infatti allora il mio scopo ma il nostro credo un po di tutti è quello di guidare allora io voglio guidarti in questa scelta voglio accompagnarti per farti capire un po quali sono i rischi le problematiche e gli scenari a cui tu vai incontro poi la scelta è tua ma se sei consapevole delle varie problematiche la scelta è consapevole se non lo sei magari la tua aspettativa è festa poi ti ritrovi il concerto di una band fenomenale che però non fa scatenare nessuno quindi se hai chiarezza e magari qualcuno che dall'inizio ti prende per mano e ti aiuta a capire questo puoi fare una scelta consapevole senza avere poi un rimpianto o dei rimorsi poi claudia ti è mai capitato magari anche di avere dei volumi eccessivi dove gli ospiti neanche riuscivano a parlare sì allora quello accade quando c'è diciamo il musicista protagonista che alla fine cioè urla come un pazzo e secondo me poi prevarica anche tutto quello che è un po' la festa sì alcune volte mi sono capitati che in quel caso in realtà sono molto bravi ad annunciare anzi lì li sentono fino hai capito fino in Svizzera anche perché qua sono molto vicino alla Svizzera però poi forse non è quello che si aspettavano i ragazzi mi è capitato qualche volta soprattutto in ingresso in sala se da una parte abbiamo magari i musicisti che non si accorgono che gli sposi arrivano in sala invece in altri casi abbiamo dei musicisti che hanno un volume di voce così alto che alla fine proprio prevarica perfino la musica alcune volte poi ci sono anche delle situazioni in cui costringono spesso e volentieri magari ospiti che non hanno nessuna intenzione magari di fare il famoso trenino e vengono anche costretti a farlo ecco quello si vede no è vero che in realtà lo si fa sempre per cercare di coinvolgere gli invitati ed è giusto anche quello c'è sempre probabilmente anzi sicuramente modo e modo di farlo perciò sì io panorami musicali ne ho visti tutti colori un'altra cosa che per esempio non tanto diciamo il musicista protagonista è proprio invece tornando un po' ai ragazzi che fanno questo come terzo quarto quinto lavoro che poi arrivano senza niente nel senso io mi ritrovo spesso dei ragazzi seppur bravi perché per carità di dio sono bravissimi che però mi arrivano in location che non hanno attrezzatura non hanno tavoli non hanno sedie non ci hanno manco la tovaglia cioè in realtà anche questo va sempre molto a discapito di quello che poi è l'immagine di un matrimonio insomma i ragazzi ci mettono alcuni anche un anno altri due anni se lo organizzano il matrimonio e poi cadere o scivolare su una buccia di banana così non è molto bello e cioè ecco non ho visto un po di tutti i colori devo dire però ci sono anche dei bravissimi lungissimi ma ribadisco sono tutti come stai dicendo tu francesco noi non stiamo andando nella nostra intervista contro chi fa musica il problema che ribadisco il matrimonio è un evento molto importante e bisogna aiutare le coppie a capire che chi è protagonista assieme a loro del matrimonio seppure in secondo piano deve avere a mio avviso determinate caratteristiche se no vai al ristorante in agriturismo e vabbè noi siamo una io la penso così noi siamo una location che ha un determinato tipo di appeal e quindi poi spiace anche a me devo dire che ci siano queste situazioni però è bravissimi in realtà a suonare però matrimonio è un evento molto particolare ecco no ma infatti come dicevo prima molti sono bravissimi a suonare ma nel caso tuo che dicevi del musicista protagonista in quel caso dimenticano cioè per loro è come se si stessero esibendo a Sanremo quindi dimenticano in realtà che loro la loro funzione dovrebbe essere quella di coinvolgere gli ospiti e gli sposi perché se la sposa cerca festa se tu cerchi festa vuoi essere aiutata a far scatenare tutti i tuoi ospiti in quel caso il musicista non solo diventa il protagonista e la star del tuo matrimonio gli sposi e gli osti diventano gli spettatori e poi oggi praticamente il matrimonio è condensato tutto in quelle dodici ore quindi in quelle dodici ore le persone devono mangiare bene devono stare bene devono divertirsi e se c'è una persona che toglie tutta questa attenzione dalla festa dal significato di questo giorno e la centra su di sé capisci che io dico il concerto è bello piace anche a me ma pago cento euro 90 euro vado a vedere gli due o il colplay e non non mi costa 36 mila euro quanto mi costa un intero matrimonio perché poi il matrimonio viene ricordato come sguaiato noioso rompiballe approssimativo superficiale in base al tipo di esperienza che vivi e chi determina l'esperienza che vivi servizio musicale questo concordo molto perché ribadisco io posso avere o come tutti hanno anche detto che c'è una torna a noi ci sono delle strutture splendide però anche tu puoi avere anche il castello di Versailles ma se poi la musica o l'entrattinamento non è bello forse ti ricordi di una parte sola probabilmente del ricevimento quindi ecco i musicisti vedete di sopravvalutarvi un po di più ecco non fatevi buttare giù e date il massimo perché poi la musica è una delle cose che riempie l'anima e il cuore no quindi farla bene ma vedervi anche poter offrire il vostro servizio in un determinato modo secondo me è molto importante spero che anche musicisti se ce n'è qualcuno che ci sta ascoltando ecco c'è Pierluigi si adottino anche un pochino per questo perché ribadisco purtroppo devo dire che statisticamente il 70 80 per cento dei musicisti invece lo reputa proprio come un secondo lavoro come un ripiego invece per i ragazzi non è certo un ripiego ecco non deve essere così assolutamente anche perché se poi uno cioè se tu cerchi cosa un matrimonio straordinario che venga ricordati da venga ricordato da tutti che resti nella storia che di cui tutti parlano ovviamente anche se hai tutto al top e sottovaluti questo aspetto praticamente butti alle ortiche tutto quello che hai desiderato e immaginato e anche il modo come verrà ricordato no? Certo. Dicevamo prima. Certo. Martina Francesco una domanda durante la scelta dell'intrattenimento è più importante che la sposa scelga ciò che è meglio per lei e per lo sposo ciò che è meglio per i suoi ospiti. Qua dipende dalla tipologia di sposa. Cioè nel senso ok? Nel senso che la cosa importante dal mio punto di vista e che la poi chiediamo anche il parere a Claudia il mio è che la sposa per quel giorno viva le le sensazioni e le emozioni che ha sempre desiderato. In realtà eh il nostro scopo non deve essere quello di appioppare un prodotto un servizio ma di aiutare concretamente delle persone attraverso il nostro servizio attraverso la musica attraverso la location attraverso le foto a vivere quelle sensazioni quelle emozioni che gli sposi immaginano già come ad esempio può essere entrare in sala e vedere tutta la sala già che salta dal tuo ingresso quindi vedere il sorriso la gioia negli occhi dei tuoi amici dei tuoi genitori dei tuoi nonni ecco eh se eh la sposa cerca secondo me eh di vivere un'esperienza che non è in linea con il tipo di servizio e di esperienza che facciamo vivere noi un professionista eh leale trasparente deve dire ti ringrazio ma io non posso aiutarti ci sarà qualcuno che concretamente ti può aiutare a vivere quello che tu desideri non sono io questo significa aiutare concretamente una sposa e non appioppare o vendere a tutti i costi il proprio servizio. Che ne pensi Claudia? Ma eh concordo con quello che stai dicendo tu Francesco questo vale eh per tutto quello che è i fornitori del del servizio matrimonio eh come ho detto all'inizio noi abbiamo una location moderna una location moderna sicuramente non piacerà una coppia di sposi eh che desidera una villa o un castello non piacerà una coppia di sposi che desidera festeggiare il suo matrimonio in un agriturismo ma non per questo vuol dire che la mia è brutta e la tua è bella e questo è uguale anche nel servizio musicale come nel servizio fotografico come nel servizio wedding planner l'importante è giustamente far capire alle coppie di sposi eh se il nostro servizio è quello più giusto per loro e quindi come giustamente ti ha detto tu è inutile appioppare a una coppia e come dico io molte volte in tutti i nostri servizi capita che i fornitori siano abili venditori e ti appioppino lo specchietto per le allodole no? Poi però il giorno del tuo matrimonio magari quello che un anno prima hai scelto eh non corrisponde poi a quello che veramente stavi desiderando questo è diciamo una cosa trasversale nel settore matrimonio la cosa più giusta è proprio quello di spiegare ai ragazzi che probabilmente magari matrimonio travolgente magari per alcune coppie non è idoneo perché magari si aspettano un matrimonio dove al posto di un ingresso in sala dove tutti sono alzati con i tovaglioli che festeggiano i ragazzi magari un'altra coppia come spesso capita invece vogliono un ingresso in sala molto soft dove magari tutti devono essere seduti dove si fa il primo ballo con il papà una cosa molto più soft va bene tutto importante è che poi quello che è stato scelto un anno e mezzo due anni prima poi sia quello che tu ti aspetti il giorno del tuo matrimonio bravissima allora ragazzi io quello che dice claudia volevo darvi un consiglio esatto allora quando voi valutate nel caso della musica ma anche nel caso della location di tutti i servizi ragazzi non non fermarti al preventivo con le caratteristiche tecniche incluse nei pacchetti perché sono cose che tu non capisci perché non sei una tecnica non sei una musicista se io ti dovessi dire che il mio impianto è composto da due on 15 gbl g2 dell'utero tu mi dici ma di cosa stai parlando fatti spiegare dai professionisti poi ci sono quelli anche per un giorno ma ne abbiamo parlato in che modo e come in che modo e come possono aiutarti concretamente a raggiungere quello che tu vuoi esempio concretamente io voglio desidero un matrimonio dove ci sia festa dove all'ingresso tutti saltino ok fatevi spiegare in modo concreto come è possibile fare questo non io ti faccio ti do una festa da sogno indimenticabile non vuol dire una mazza e fumo non è concreto fatti spiegare come che metodo c'è che garanzie ci sono le testimonianze chi già ha vissuto quell'esperienza e se può testimoniare che il risultato che tu stai promettendo è vero perché ragazzi sono testimonianze di persone che dicono nicola è simpatico ma a me fa piacere se nicola è simpatico ma se nicola suona il giorno del tuo matrimonio è simpatico e non ti è utile ma tu investiresti mai dei soldi per qualcuno che non ti è utile e che poi va a rovinare anche il modo in cui la gente ricorda quella giornata e tutto quello che tu hai investito secondo me non vuoi perdere questi soldi ok quindi come fai a scegliere la musica se non hai dei parametri se ti sbattono un preventivo con un prezzo poi ecco claudia anche il discorso prezzo no ragazzi puntualizziamo anche questo c'è il prezzo senza valore è zero è un numero allora il prezzo è l'investimento che tu devi fare per farti aiutare a raggiungere quello che tu vuoi se prima non ti dicono cosa possono fare per te come possono farlo e se ti possono essere utili se tu cerchi festa una super band di 40 elementi che si esibisce non ti serve a una mazza ok ma non perché sono bravi sono bravi ma fanno altro ok cioè sono due esperienze diverse ok quindi questa è la cosa assolutamente fondamentale se posso aggiungere una cosa francesco nel nel matrimonio il prezzo è proprio è vero che ognuno si deve fare un budget perché è importante però purtroppo negli ultimi anni è un po una costante no come a te la prima cosa che viene chiesta è un prezzo in realtà quello forse è l'ultimo dei tuoi problemi nel senso come giustamente dici tu ma questo capita anche a me come location richiede un preventivo un menu boh vuol dire tutto e vuol dire niente come ti ho spiegato prima io una location moderna in primis ti devi chiedere per quello che riguarda il mio servizio che tipo di location sto cercando io è logico che ti aiuto a capire se la mia location è quella adatta a te perciò il prezzo è vero che come dico sempre poi ragazzi lo spiego in realtà è molto importante avere un budget di spesa dietro anche se poi la maggior parte nel matrimonio si sfora la grande però io che sono una sempre molto fiscale che i numeri sono molto attenti è logico che in tutte le cose i numeri vanno visti però in primis bisogna proprio chiedersi in tutti i servizi del matrimonio qual è il risultato che io voglio ottenere e questo bisogna veramente spiegarlo alle coppie di sposi perché come dico io molte volte il matrimonio non è che poi c'è una seconda occasione no quando sei in location per esempio magari una coppia io adesso parlo un attimo nel servizio location capita molto spesso che magari le coppie assolutamente non abbiano il sentore del fatto che magari il giorno del loro matrimonio possa piovere gravissimo errore se cerchi una location una delle prime cose a meno che tu non sia in venti allora vabbè è un altro paio di male però per il servizio location questo è un problema che pochissime volte le coppie tengono a mente quindi prima di chiedermi che cosa costa fosse il caso o ma magari il giorno del mio matrimonio pioverà ce l'hai un bel piano b ma non anche perché e questo anche a livello musicale è la stessa cosa anche perché se piove e immagina la tua giornata dentro chiusa e diventi un ostaggio perché tu l'hai immaginata all'esterno con il sole splendente che spacca le pietre peccato che all'improvviso cambia il tempo 200 persone arrivano impanicate tutte insieme con l'ombrello entrano dentro entrano già scazzate per il tempo e se non hai energia dentro la sala rischi che dopo il gran buffet di benvenuto che durano le 30 due bicchieri di vino primo primo se già là sul divanetto in questo caso non interno non esterno ma interno che se lo trovi il divanetto no ma poi pensa anche proprio anche che magari è investito in matrimonio travolgente però poi magari una coppia sei scelto una location dove poi se piove dentro non c'è neanche lo spazio per ballare cioè sono molte cose no da valutare quindi magari tu hai proprio un posto dove ah sì bellissimo il piano A poi dentro te la sogni la musica perché non c'è neanche spazio per ballare quindi seppur hai scelto magari francesco barattucci di mattina travolgente poi di travolgente non so cosa riuscirei a fare poi ci spiegherai come ti riesci a organizzare in queste situazioni certo allora il senso è ragazzi allora valutate non un preventivo assettico perché non significa nulla poi c'è il problema che chi vi dà il preventivo comunque sia il musicista vuole solo appiopparvi se chiedete tre volte allo stesso musicista quel preventivo tre volte sarà esattamente identico cioè quindi tu sei un numero di serie non sei una persona tu devi essere trattata come persona ogni persona ha un'idea del suo matrimonio ogni persona vuole vivere un'emozione una sensazione diversa quel giorno c'è chi cerca festa come dice claudia c'è chi cerca un matrimonio totalmente soft dove non si alzi nessuno c'è chi vuole la filodiffusione c'è chi non nemmeno la vuole la musica ok nulla di queste soluzioni è migliore dell'altra sono semplicemente diverse come lo sono le persone ma se prima una persona un fornitore un professionista non ti chiede tu cosa ti aspetti non ti vuole aiutare perché non sa come aiutarti e ti sparo un prezzo che spara a tutti perché dice ok adesso faccio abboccare un'altra sposa inconsapevole mi metto i soldi nella tasca e poi se quel giorno l'emozione la sensazione che vivrà la sposa non è quello che si aspettava pace io comunque avevo guadagnato o no? Eh direi di sì questo è il senso io poi volevo ricordarvi ragazzi perché queste sono alcune tematiche che adesso abbiamo affrontato oggi con claudia ma se vuoi su www.bastamatrimoninoiosi.it puoi prenotare una consulenza gratuita personalmente con me per questo periodo ne ho messo a disposizione i 20 dove concretamente andiamo ad analizzare il tuo caso specifico per capire cosa cerchi e a vedere concretamente altre e tante altre problematiche oltre a queste per evitare di fare una scelta sbagliata ma soprattutto ti vado a indicare quelli che sono i sette step per avere una festa che fa scatenare davvero tutti ok trovi il link qui poi claudia una cosa importante eh tornando un po' al discorso di prima specializzazione allora ragazzi un'altra cosa importante cosa vuol dire essere specializzato non nel matrimonio attenzione non nel matrimonio nella festa di matrimonio cioè perché la festa di matrimonio non è il diciottesimo non è il battesimo non è la comunione non è ripetibile non è che se tu fai l'ingresso con dei soprammobili e magari ti aspettavi tutta la sala festante poi dici ragazzi stop rewind ok fai ripartire la musica no è andato ok quindi è un evento claudia eh che ha delle dinamiche delle problematiche dei tempi dei rischi diversi da qualsiasi altro voglio da qualsiasi altro evento no quindi se non ci sei specializzato sì come ti dicevo prima già solo il discorso della parte centrale del banchetto ha delle tempistiche eh in realtà il matrimonio ha delle lo sai anche tu benissimo ha proprio delle steppe e una determinata organizzazione poi come sempre è è logico che noi non siamo qui con il fucile spianato che se non si rispetta il quarto d'ora succede la tragedia però ecco ci sono delle tempistiche che vanno rispettate eh quindi che sia il buffet la prima parte la parte centrale il taglio torta eh i professionisti che fanno parte del di questa giornata devono comunque attenersi il più possibile a tutti questi step proprio perché poi la festa come dici tu non è che se non c'è la musica mentre i ragazzi stanno tagliando la torta rifamo tutto quanto quello una due volte che è capitato eh i ragazzi si sono beccati il taglio della torta senza la musica ehm perciò non è un evento che si può ripetere è un one shot e perciò deve essere buona la buona la prima quindi è proprio per questo che tutti coloro che sono quel giorno presenti al matrimonio che sostanzialmente come abbiamo detto l'inizio sono quattro location catering noi non abbiamo una ristorazione interna quindi ci avvaliamo eh di società di banchettine esterne musica eh fotografo e nel caso la wedding planner eh dovrebbero essere tutti coordinati e lavorare per uno scopo comune quando anche sono uno degli attori incomincia a andare da un'altra parte o c'è qualcuno che lo riporta sulla retta via però ecco come ti ho detto io molte volte ho dovuto fare mh sobbarcarmi questo lavoro ma lo faccio ben volentieri però molte volte poi eh magari come ti ho detto i nonni i parenti che guai sai finito il banchetto tutti c'è molte volte la gente che rimane in sala a finire un discorso poi magari si sono persi una parte perché nessuno li ha avvisati quindi ci vuole sempre una regia e se durante quel giorno tutti sono sul pezzo e sono dei professionisti eh l'evento non c'è bisogno che io mi debba spostare andare avvisare ecco tutti sanno fare il loro lavoro una volta fatto un briefing iniziale con i professionisti con cui collaboro quasi sempre non c'è bisogno neanche poi di andargli a dire o a insegnare niente ecco sì perché Claudia poi ci sarà successo no a un matrimonio ci sono tanti ciao Barbara un caro saluto quella a un matrimonio mangiando popcorn a un matrimonio poi rispondo anche a te Giorgio a un matrimonio possono succedere tante cose che tu non prevedi semplicemente perché la prima volta che ti sposi non finirò mai di ripetelo e si spera sia l'ultima si spera ok se fossimo in America se si sposassero anche cinque o sei volte a noi non ci fa mica schifo e anzi e che succede possono succedere tante cose tipo Claudia no magari un ritardo può essere anche nella cucina a me una volta è successo che lo sposo durante il buffet esterno è svenuto perché faceva troppo caldo e siamo entrati in location alle 18 e 30 e alle 20 c'era il taglio della torta cioè ci possono succedere tanti rischi tanti imprevisti che tu non consideri e che poi fa tutta la differenza del mondo avere qualcuno che queste cose le ha già vissute e abbia la soluzione b c d e h f g e t z per poterti aiutare a risolvere cioè ecco mi piace molto l'idea della guida cioè dell'affidarsi di prenderti per mano e dire piove c'è un problema succede questo ok per ogni fase io so esattamente come risolverla sì allora durante il matrimonio bisogna avere nervi saldi esperienza perché come dici tu francesco in ogni matrimonio nel backstage può capitare qualsiasi cosa l'importante è appunto saper risolvere in modo dinamico immediato qualsiasi situazione cioè i ragazzi in realtà non si devono accorgere di nulla perché spesso capitano degli imprevisti l'importante è appunto avere comunque per quello che riguarda appunto me stavamo parlando piano b comunque avere la soluzione ma quella è una soluzione a monte cioè non è che ti può improvvisare con gli ombrelloni voglio dire il giorno del tuo matrimonio e saper gestire le situazioni qualsiasi tipo di situazione un po il nostro lavoro quindi giustamente noi i ragazzi si devono affidare a quelli che sono come dico io e come dici tu i professionisti poi se invece ci si affida a un po come dico io per raccontare quello è un altro paio di maniche sulle otto possiamo andare a creare un matrimonio ci sta voglio dire anche a noi è capitato soprattutto magari d'estate l'ospite che che magari non è perché sai poi non sei più neanche ne abituati né mangiare a bere come era un tempo quindi anche noi l'anno scorso per esempio poi soprattutto adesso ci sono delle stati molto calde che magari se magna c'è sabbo fa l'anno scorso mi è capitato che di dover chiamare l'ambulanza non è successo niente però insomma sono cose che capitano l'importante è tranquillizzare tutti gli altri non succede niente ecco e poi riorganizzare se capitano queste cose alla collaborandone con catherine insomma di fiducia con cui conosciamo da dieci anni niente si riorganizza tranquillamente quello che possa essere il servizio e tutto poi si svolge in modo normale ecco ti volevo dire quanto è importante un sopralluogo da parte di un musicista ti è mai capitato qualche musicista che magari ti ha chiamato 4-5 giorni prima che non ha mai suonato nella tua location di fare un sopralluogo? allora guarda no noi per prassi non è che costringiamo ma noi vogliamo che fornitori che non hanno mai lavorato presso la nostra struttura facciano dei sopralluoghi quando non vengono se poi mi chiedono una presa una roba del genere fatti tua cioè no non sono così cattiva poi ce l'ho una scorta di prese prolunghe no noi sostanzialmente vogliamo che tutti i fornitori ma che sia il musicista il fiorista anche magari una wedding planner che non è mai venuta presso la nostra struttura noi facciamo sempre uno o due sopralluoghi comunque ma non tre giorni prima ma diversi mesi prima con la location proprio perché noi spieghiamo agli sposi che essendo una location con ben più di 4 scenografie non è la classica location dove c'è una sala e fuori c'è un parco che poi non so se le altre strutture fanno far sopralluoghi immagino di sì ecco però noi proprio lo chiediamo proprio perché se no spieghiamo già a priori che se non fosse così poi ci possono essere delle problematiche il giorno del matrimonio che poi non è proprio il caso che ci siano poi anche lì quando capitano Francesco è logico che la risolviamo però ecco non dovrebbe capitare insomma ok cosa è importante visto che tu sei una location manager volevo affrontare anche un argomento che sicuramente anche questo molti sposi non sanno delle location quanto è importante per una sposa avere ecco qui secondo me musica e location sono strettamente collegati avere la possibilità oltre che mangiare e mangiare bene che io credo sia scontato ok avere la possibilità di godersi appieno ogni momento della festa e non di avere una location che magari il giorno dopo ha un altro matrimonio che magari il giorno prima ne ha avuto un altro e farà di tutto per farlo finire il prima possibile e taglierà sui tempi della festa o che magari ti ha obbligato a prendere quei 3-4 musicisti che ha sempre e che dà a tutti e che quindi diciamo il ristoratore e il musicista diventano i padroni della festa del matrimonio ma allora secondo me è molto importante come ti come accennavo all'inizio noi abbiamo un po' come master insomma un po' la nostra filosofia dare la libertà alle coppie di sposi di godersi ogni momento della giornata e nonché della serata e questo che cosa presuppone che noi comunque realizziamo in esclusiva un unico evento al giorno quindi noi non abbiamo anche se fosse un evento serale noi a pranzo comunque non prendiamo nessun tipo di matrimonio perché anche qui i ragazzi pensano ah sì il mio matrimonio dura 8 ore no non è così in realtà se noi abbiamo un evento diurno da noi il banquet ne arriva alle 7 e mezza 8 del mattino e quindi tu capisci che non sarebbe possibile poi fare un altro evento e tanto meno prenderne uno di sera perché comunque il matrimonio presso la nostra struttura come minimo dura 8 ore ma volendo alcune volte ci facciamo la all night day long delle 12 ore quindi non sarebbe possibile poi comunque non l'abbiamo mai fatto noi vogliamo garantire un livello appunto di esclusività e poi comunque di tranquillità e la libertà di godersi tutta la giornata non sarebbe neanche possibile poi io man mano divento sempre più vecchietta quindi sarei sconvolta anch'io perché comunque dietro un matrimonio ragazzi ricordatevi che c'è un grossissimo lavoro come ho detto prima voi pensate a molte coppie e dico eh sì vabbè cosa vuoi che sia 8 ore noi cominciamo se è un diurno come spiegavo alle 8 del mattino poi magari voi finite alle 10 di sera e ora che noi abbiamo finito magari è mezzanotte luna quindi dietro un matrimonio c'è un grossissimo lavoro e proprio per questo noi ma questo l'abbiamo fatto Francesco fin dall'inizio non abbiamo mai voluto fare un matrimonio dietro l'altro perché poi come dici tu poi si rischia che magari come dicevi tu all'inizio pur di brancarti come cliente ti dicono perché poi bla 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 per prenderti ti dicono bla 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 appena entri ti dicono invece di preoccuparsi e dirti ah dai oggi collaboriamo sarà una festa pazzesca tutti quanti sto marionio se l'ha ricordato stasera a che ora pensi di staccare? ecco perciò appunto io so perché poi io parlo con le coppie come ti ho detto all'inizio che sentiamo noi una delle prime cose che chiediamo è un po' come hanno vissuto i matrimoni in altre strutture proprio per magari non replicare delle cose che hanno visto che non gli sono piaciute una delle cose più classiche è quella di essersi trovati magari in location di arrivare in una location dove gli ospiti come dicevi tu di Francesca sono ancora lì mentre stanno arrivando gli ospiti di Giuseppina cioè poi si incrociano gli ospiti e si accavallano e spesso e volentieri poi le location è logico che al posto di darti di effettivamente realizzare il matrimonio negli orari che ti hanno detto poi tendono spesso e volentieri a cacciarti via un po' prima perché poi anche noi anche loro non noi perché noi non lo facciamo ma comunque un minimo di pulizie nelle sale l'hanno fatte perché anche qui è una cosa molto importante noi ci teniamo molto per esempio all'ordine la pulizia non fa ritrovare il giorno dopo le croste del matrimonio del giorno prima anche perché poi quando ci sono magari dei matrimoni in contemporanea diranno ti diranno alla sposa non ti preoccupare ogni sala avrà la sua autonomia ma poi faranno in modo che comunque sarà tutto veloce perché magari il giorno dopo c'è già l'altro matrimonio quindi io ho visto alle sette di sera già mettere le tovaglie sui tavoli di fronte agli ospiti ok e Claudia cosa è importante hai visto ti è mai capitato di vedere musicisti che magari ecco non hanno dato l'esclusività o magari la sposa l'ha dato per scontato e poi magari che ne so subito dopo il taglio torta sono scappati o comunque non hanno dato quell'esclusività tutto il giorno sì anche questo è capitato perché cosa succede perché poi molte volte anche qui mentre probabilmente questo capita secondo me Francesco perché poi come ho detto prima molte volte questo tipo di evento e soprattutto nel servizio musicale magari viene concordato un po' a voce no è sempre una roba vaga in realtà io come dico sempre a tutti i ragazzi nel mondo del matrimonio ma poi questo è però una lezione di vita perché poi oltre al matrimonio ci saranno anche altre cose da affrontare nella vita io sono dell'idea che tutto deve essere messo nero su bianco in modo che poi non ci siano problemi perché poi molte volte anche io certe volte ho visto dei matrimoni come dici tu che magari erano lì a ballare briga fuoco ma di colpo la musica smette e poi io molte volte sono andata dai musicisti a dire ma ragazzi la coppia la location fino alle due del mattino sì ma noi hanno detto che finiva l'una e lì cominciano dei problemi quindi io poi non entro nel merito perché in quei casi non sono musicisti che magari conosco e quindi non posso intervenire però spesse volte è capitato quindi ti ritrovi una festa troncata poi sul più bello no sul finire perché poi la parte finale è una delle parti più divertenti proprio perché a voce come dico io sono bravi tutti ma poi nei fatti molte volte è molto diverso quindi alcune volte è capitato cioè il non fatto di non sapere che quello non so se poi è una cosa che non dicono gli sposi o proprio poi una cosa che perfurbizia gli sposi dicono e poi uno fa finta di niente proprio come dici tu perché poi magari il giorno dopo devono essere magari a 300 km che poi musicisti non sono come la location che rimane qua ma si spostano magari un matrimonio fatto qui e poi si devono fare 200 km che magari devono andare o 300 in Toscana il giorno dopo essere lì alle 10 quindi è palese che prendono sbaraccano su tutto e vanno quindi sì alcune volte ho visto un po' delle scene un po' tristi ecco però lì io purtroppo chiaro non posso intervenire perché ormai come dicevamo ormai è il giorno del matrimonio e metterci una pezza è un po' difficoltoso in quel caso magari a me è successa anche una coppia nelle tante consulenze che svolgiamo in questi 10 anni una coppia 2021 che mi ha detto che proprio un annetto fa è stato un matrimonio dove al taglio della torta praticamente c'era una band tutto il giorno che ha smontato davanti agli ospiti e poi il doposera l'ha dovuto improvvisare il cugino ecco il famoso cugino e quindi fortuna che c'era il cugino fortuna che c'era il cugino voglio dire è andata bene esatto capita capita proprio perché come dicevi tu il matrimonio per loro è la prima volta che organizzano un matrimonio ma in realtà un evento io infatti tante volte chiedo ma a prescindere che sia la prima volta che organizzano un matrimonio poi è vero che ci sono anche le coppie in seconde nozze ma insomma è un pochino più un pochino nelle percentuali è un pochino più bassa la percentuale ma io chiedo sempre ma tu a prescindere il matrimonio hai mai organizzato un evento ma non che è l'evento della festa dei bambini perché comunque avrai a che fare benché ti vada con almeno una quindicina di fornitori quindi se tutti poi sono solo lì a cianciare e ci sono dei problemi insomma è un matrimonio è un evento complesso il matrimonio le coppie lo prendono sempre molto sotto gamba sembra che sia un gioco ma ok non è per nulla un gioco e infatti io dico sempre ragazzi cioè nel senso non è colpa tua nel senso che giustamente vi sposate per la prima volta ok e quindi magari erroneamente ecco l'altro giorno per dirti la mia assistente ha risposto a una ragazza la ragazza diceva ma io ho poco tempo un po' per vedere un po' l'organizzazione musicale il problema è che se tu poi non concretamente non valuti quelli che sono quelle che sono le problematiche quelli che sono i rischi che potresti incontrare il problema è che in questo campo sono tutti bravi a parlare nessuno ti fa vedere concretamente cosa c'è dietro la tenda ok è come se tu vai da una concessionaria a prendere un'auto ovviamente chi te la vende sa vita morti e miracoli di quell'auto tu che non ne sai nulla magari lui ti dice quest'auto ha 80.000 km e magari ne ha 400.000 e tu la paghi 10.000 euro in realtà stai comprando una cosa che vale 1000 euro quindi il problema ecco non è pagare ma investire su qualcosa che ne valga la pena e soprattutto quel giorno essere felice cioè quel giorno quando tu vedi il tuo futuro marito negli occhi quando vi sedete la sera quando il giorno dopo fate colazione devi essere felice e ripercorrere quello che tu hai vissuto il giorno prima ma immagina se tu il giorno dopo hai il giorno prima hai vissuto un mortorio immagina la tristezza che hai negli occhi immagina come ti senti e come vai in viaggio di nozze con quale stato d'animo se il giorno prima hai avuto 200 soprammobili che hanno solo mangiato e magari ti sei ritrovata e poi me li lasciano qua magari no poi una cosa giusta che hai detto tu cioè i ragazzi devono essere aiutati soprattutto a capire quello che c'è dietro perché se no ribadiscono anche io quando ho incominciato questo lavoro dieci anni fa ho dovuto imparare anche io tante dinamiche arrivavo totalmente da un altro settore perciò ho imparato e questo i ragazzi devono capire che devono dedicare del tempo ma come spesso diciamo del tempo di qualità al tuo matrimonio come hai detto tu una coppia che non vuole investire nel tempo a capire le dinamiche di un matrimonio sicuramente avrà dei problemi al suo matrimonio ecco poi la speranza come si dice l'ultima a morire ma nel matrimonio santa speranza santa speranza non ti può aiutare il giorno del matrimonio non piova aspetta il sera il giorno del matrimonio ci vogliono certezze garanzie sicurezza affidabilità perché devi affidarti perché non conoscendo il campo devi affidarti se ti affidi a santa speranza ovviamente un evento così complesso hai molte probabilità che non non vada a buon fine o comunque non vivi quello che ti aspettavi poi un'altra piccola cosa ti volevo chiedere Claudia ti è mai capitato magari anche tra una portata e un'altra che non ci fosse proprio la musica cioè che magari c'era la band che suonava e poi magari arrivava la portata andavano a mangiare e stoppavano proprio la musica sì sì quello capita quello capita molto spesso allora ti devo dire la verità allora in alcuni matrimoni è un desiderio della coppia degli sposi anche cioè che il fatto che durante il servizio delle portate principali la musica sia più soffusa questo durante sì durante sì ok allora forse la domanda scusami magari se ci sono dei momenti durante la giornata dove proprio la musica non c'è proprio ecco viene viene praticamente tolta ma allora alcune volte capita perché i musicisti si abbofano al buffet oltre ai fotografi allora la parte del buffet è lo scatenamento spariscono tutti no allora ma la maggior parte delle volte porelli suonano ci sono dei momenti effettivamente che magari ci sono degli stop molte volte capita spesso e volentieri durante o il buffet o la cena o il pranzo che poi non ci sia musica però ti devo dire forse questo è più un desiderio forse delle coppie di sposi non lo vedo forse come una mancanza da parte dei musicisti o forse una cosa a cui io forse in questo caso non ho dato molto molto adito non lo so forse è più una cosa non mi è sembrata una cosa fatta perché certo se poi uno deve andare in bagno porello ci dovrà andare anche lui visto che sta qua 12 ore però forse no quella non forse una cosa che qua non è mai capitata penso che e suppongo che sia stato proprio per una decisione degli sposi avere in determinati parti della giornata comunque una cosa più soft non tutti vogliono comunque anche durante la cena o il pranzo avere comunque un determinato tipo di intrattenimento ecco no no sì esatto poi non so se ho risposto alla tua domanda ma no durante le portate sì il senso era che durante le portate è normale che ci sia comunque musica soft ed ascolto per non disturbare assolutamente nel pranzo e nell'invitato che mangi ma il discorso è che magari se magari c'è una band live che suona solo live magari quando arriva la portata e loro si devono assentare magari si bloccano esatto ah ok in quel senso sì quello come ti ho detto capita quello invece capita abbastanza spesso proprio perché se c'è una band live è logico che se magari sopra mi hanno lasciato la piccola console con la sua musichetta poi loro spariscono e quindi quello sia ecco se questa è la domanda sì la risposta è sì capita molte volte capita proprio per questo ma questo è proprio perché non sono diciamo la band live è proprio secondo me un'altra cosa poi sono bellissime perché qua noi tra l'altro possiamo fare anche in esterno quindi in pochissime location si può fare quindi noi possiamo fare anche musica dal vivo in esterno quindi quando c'è la band per me è molto bello però effettivamente poi magari abbandonano la postazione in sala e se magari gli sposi in quel momento volevano fare un ballo perché sai molte volte è vero che c'è una scaletta ma giustamente il matrimonio è fatto anche perché sono loro i protagonisti di quella giornata vogliono magari fare una cosa all'improvviso e magari a me spesso mentre sono in giro perché poi io sono sempre con le coppie durante il matrimonio io spesso mi sento dire dove è il fotografo dove è il musicista e mo' già che mi faccio 8.000 chilometri durante un matrimonio li devo andare a cercare ecco se mi intendevi in quel senso lì che magari e non c'è un presidio in sala che controlla quello che avviene in sala sì ma alcune volte capita ok ragazzi nulla Claudio allora dai andiamo un attimo in chiusura dai tre consigli su tutti dai per chiudere la grande agli sposi diciamo relativamente al servizio musicale a cosa devono fare attenzione nella scelta dai allora relativamente al servizio musicale ragazzi dovete stare sempre attenti di affidarvi a dei professionisti ma dei professionisti che sappiano che cosa vuol dire lo svolgimento di un evento come un matrimonio come abbiamo continuato a ripetere durante tutta questa live tutti i musicisti sono bravissimi però le tempistiche di un matrimonio sono sono molto importanti sono quelle che fanno che determinano poi la riuscita del matrimonio perciò assolutamente non affidatevi al cugino che poi magari poveretto è anche pure invitato al matrimonio e questo capita molto spesso e quindi vi fare un disaster seconda cosa importantissima io questo non continuerò a ripetere ma questa è una mia deformazione dai lavori fatti precedentemente il bla 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 lasciatelo ai qua qua tutto per iscritto quindi perché se poi anche ci fossero dei problemi almeno carta canta non fidatevi mai di chi pur di brancare come diceva giustamente Francesco vi promette la luna ma poi alla fine al matrimonio vi ritrovate un buco nero e quindi almeno cominciamo con le metà perché adesso non cominciamo a giocare e quindi ok carta canta e l'ultima cosa che dire la scelta del musicista ma come anche qualsiasi servizio relativo al matrimonio dipende da quello che volete voi e che tipo di festa volete realizzare ognuno di voi è diverso ognuno di voi ha delle aspettative come anche noi fornitori ognuno di noi è diverso e ognuno di noi vi può dare una determinata soluzione specifica a quello che avete bisogno voi quindi un grosso invito per piacere almeno a me come location non mandatemi più solo richieste richiedo un preventivo menù non so a Francesco a te cosa chiedono però ecco andiamo un pochino a fondo io poi quando vi ricontato è logico che incomincio a farvi un po' di domande perché capisco che in realtà purtroppo e questo è un grosso problema degli ultimi anni perché non era così comunque fino a 10 ma anche solo fino a 6-7 anni fa io comunque ho visto questo cambiamento ormai è tutto molto appiattito a una richiesta di prezzo non so se è colpa di Amazon Hashemem o Zara però ragazzi l'acquisto di un servizio di matrimonio non è come un acquisto stile Amazon basato su un prezzo ok anche noi abbiamo un prezzo però Amazon se compri qualcosa che non ti piace il giorno dopo lo restituisci una location non la puoi restitire un musicista non lo puoi restitire così come un photo una wedding planner un bakery quindi il prezzo ribadisco è una delle ultime cose che cosa è importante Claudia non puoi ricomprare un ricordo eh tu sei più bravo lo so su ricordi quanto vale cioè no è importante quanto vale nel giorno più importante della tua vita il ricordo di quella tua festa e dopo tutto quello che tu investi quanto ti costa farla ricordare con ospiti che si abbuffano solamente e che si sono solamente annoiati ecco in realtà voi state scegliendo un'esperienza di vivere un'esperienza e dovete in base a quello che cercate farvi aiutare se ti possono aiutare perché allora la cosa importante è che un fornitore se prima non ti ascolta vuol dire che ti vuole solo appioppare perché quel preventivo lo manda a tutti quindi già il fatto che ti aiuta ti ascolta per capire tu cosa vuoi cosa c'è vuol dire che ci tiene ci tiene al tuo risultato non ti vuole solo vendere e ti vuole realmente accompagnare e diventa perché una guida questo fa tutta la differenza del mondo rispetto agli appioppatori che magari poi parlano bla 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 non fanno neanche un contratto e neanche si presentano quel giorno del matrimonio perché succede anche questo certo ah beh io ho avuto anche coppie di sposi qualche anno fa che la location si era scordata di fissare la data del loro matrimonio e tre mesi prima disperati sono venuti da me cioè in giro c'è c'è la qualsiasi poi devo dire veramente negli ultimi anni c'è tantissima improvvisazione nel settore del matrimonio non capisco perché però insomma sarebbe ora che insomma un po' tutti e noi siamo e noi siamo e noi siamo e noi siamo proprio qui con queste live perché vogliamo per la prima volta avere il coraggio di portarti dentro a questo mondo non di sbatterti dei prezzi in faccia di prenderti per mano e portarti dentro un'ora e trentadue di live dove abbiamo parlato di problematiche di cose concrete non di fumo non di stronzate non di professionalità non di qualità non di supremazia dei servizi tutte stronzate tutte cose fumose che non serve cioè ragazzi ma se uno vi dice il mio servizio è di qualità ma cosa significa? nulla concretamente non significa nulla cosa puoi fare per me come puoi farlo? perché devo scegliere te e non un altro? a queste domande devono risponderti se non se non ti rispondono solo sono solo dei millantatori sono solo degli squali travestiti da professionisti per un giorno ok? questo è nulla Claudia dai io ti ringrazio grazie a te per avermi ascoltato nella tua diretta un'ora e 32 di live credo che spero che sia stato davvero utile a chi l'ha visto e a chi lo vedrà indifferita noi ce l'abbiamo messa tutta per aiutarti prenderti per mano e portarti dentro questo mondo e farti capire tutto ciò che spesso lì fuori non ti dicono ok? quindi salutiamo un attimo Claudia e adesso rimaniamo un attimo ciao a tutti bacio bacio anche se sei distante prima o poi ci riusciamo a riabbracciare ciao sempre ciao grazie Claudia grazie ciao a tutti buona serata buona cena ciao ok ragazzi ci sono allora una cosa sola volevo rispondere a Giorgio Giorgio non so se ci sei ancora in merito alla domanda in merito alla domanda Francesco ti è mai capitato che sei arrivato lì e magari hanno pensato una cosa e poi dopo averti visto lavorare ne hanno pensato un'altra eh sì sì è successo è successo in passato Giorgio ma a noi piace sempre sorprendere stupire e quindi come dire eh poi eh parlano 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 un po' sempre i fatti ecco le parole le parole le lasciamo agli altri eh e nulla io ringrazio tutti voi ciao Alberto per aver partecipato ringrazio a eh coloro che hanno visto questo live a chi lo vedrà credo che ce ne saranno tanti altri poi magari ne facciamo altri magari anche con con il mitico Riccardo fotografo insomma voglio essere d'aiuto in questo periodo così difficile perché insomma si parla sempre di coronavirus di cose negative di ansia io voglio portare energia nella vita delle persone in questo momento ho deciso di farlo in questo modo aiutarti in modo concreto prenderti per mano e parlarti di cose che lì fuori nessuno mi ha parlato ragazzi nessuno nessun musicista mai ha avuto il coraggio di prenderti per mano portarti dentro aiutarti parlare alle tue paure parlare ai tuoi problemi e non solo venderti professionalità qualità non solo considerarti un numero non solo considerarti una data quindi questo è il mio compito con queste live e poi come già ho detto nel live per questo periodo 20 videoconsulenze gratuite su www.bastamatrimoninoiosi.it videoconsulenza con me perché immagina in un'ora e trentacinque di live quanto valore c'è immagina quanto ce ne sarebbe in una videoconsulenza face to face solo ed esclusivamente con me dove andiamo ad affrontare in modo specifico la soluzione che tu cerchi come poterla trovare e dove ti vado a indicare i sette step per avere una festa che spacca e che fa divertire tutti quindi se non vuoi commettere errori fatali che compromettono per sempre la festa del tuo matrimonio www.bastamatrimoninoiosi.it e poi volevo concludere questa live dicendo che molti musicisti lì fuori parlano solo esclusivamente di prezzi e io sono una voce fuori dal coro voglio esserla e voglio esserti d'aiuto ok non voglio essere simpatico se poi lo sono meglio ancora però vedere in questi giorni spose 2020 felici spose 2020 che veramente hanno la felicità di avere qualcuno che pensi a loro qualcuno che ci tenga qualcuno che non li consideri solo un banco qualcuno che non li consideri solo un numero di serie qualcuno che veramente a cui affidarsi ecco qualcuno a cui tu sai che diventi un punto di riferimento una guida e qualsiasi cosa accade la tua festa è al sicuro il tuo ricordo è al sicuro perché quando tu scegli il servizio musicale scegli di vivere una festa e il modo in cui la ricordi e quindi scegli di vedere quel giorno tutti felici la gioia l'allegria tutti 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 attorno spesso questa è l'aspettativa spesso invece la realtà delude l'aspettativa semplicemente perché non sai e non conosci quali sono i rischi le problematiche che abbiamo affrontato questi giorni quindi dipende da te quanto ci tieni dipende dipende da te quanto è prioritaria questa scelta ma come abbiamo visto oggi con Claudia abbiamo affrontato un argomento visto da un altro punto di vista del location manager ci sono tanti aspetti che devi valutare tante problematiche tanti rischi di cui nessuno parla ma che sono fondamentali conoscerli prima per poi avere la soluzione giusta per poterli affrontare e poter vivere appieno il giorno della festa del tuo matrimonio quanto vale per te la sicurezza la serenità la tranquillità il benessere in un giorno così importante e immagina quanto ti costerebbe viverlo con l'ansia con lo stress con la paura addosso e soprattutto quando arrivi a fine serata e guardi il tuo marito in quel momento e dici ok abbiamo investito tutto tutto al top abbiamo lottato tante difficoltà tante energie ma questa non era la festa che noi avevamo immaginato questa non era la festa che avevamo desiderato e questi non erano i momenti che io avrei voluto vivere se adesso sai assolutamente come evitarlo quindi ragazzi io vi saluto prossimi live a sorpresa ci saranno gli annunci ma sarà un piacere accogliere e avere con me live altri professionisti per farti sentire direttamente da loro quelle che sono le varie problematiche legate al servizio musicale ringrazio tutti un grande abbraccio e ringrazio anche tutti coloro che vedranno indifferita questo live al prossimo live e voglio concludere così ricorda una cosa che quando diventi consapevole lì fuori nessuno e dico nessuno potrà più fregarti noi siamo qui proprio per aiutarti a renderti consapevole la scelta da quel momento in poi sarà solo ed esclusivamente tua ciao da francesco barattucci ragazzi un abbraccio ciao 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 Grazie a tutti